Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovissimo video Finalmente noi siamo arrivati a 600 iscritti So che 600 iscritti per uno youtuber non possono essere chissà che cosa Ma per un canale come il mio e soprattutto per uno youtuber Intorno ai 15-16 anni, ovvero la mia fascia di età, è già tanto Quindi ragazzi in questo video che dal minutaggio Ovviamente sarà molto molto breve e soltanto un ringraziamento E anche un piccolo annuncio Più avanti vi dirò Ma comunque inizio a ringraziarvi per i 600 iscritti Non mi sarei aspettato di arrivare a 600 iscritti Magari più avanti diventeremo sempre più grandi e sempre più ottimi Ma oggi però vi voglio parlare di una cosa Ovviamente dell'annuncio che io avevo citato 5 secondi fa Il mio canale è sempre stato così, un video a settimana Ma probabilmente dai 600 iscritti in poi le cose probabilmente cambieranno Probabilmente non farò un video, neanche due, ma tre video a settimana Sì infatti, finalmente farò tre video a settimana Perché guardando per bene il mio canale Ho visto che ci sono tantissime persone che stanno guardando i miei video Soprattutto quelli più popolari Perciò ho pensato, visto che sto diventando grande Grande, ma non tanto grande proprio a livelli estremi Ma comunque 600 iscritti non sono per niente male Sto controllando che molte persone si stanno iscrivendo E che vogliono più video E che stanno sempre commentando i video Quindi ho pensato Se si stanno iscrivendo in tantissimi E che stanno sempre commentando in tantissimi Allora è il caso di soddisfarli con più video a settimana Infatti ho deciso di farne tre a settimana Le date precise non le so Probabilmente farò tre video a settimana con date sparse Però vi dico che usciranno sempre alle 14 O 14, 14 e 30 Vabbè, dipende sempre se il video sarà disponibile in quell'orario I contenuti saranno sempre gli stessi Però cercherò di ispirare le cose nella maniera migliore possibile Ovviamente sempre cercare di intrattenervi E anche di fornirvi informazioni che probabilmente voi prima non sapevate Cercherò anche di essere molto molto disponibile anche sul secondo canale Che finora ho fatto soltanto 3-4 video Non è che ne ho fatti chissà quanti Sono ovviamente rimasto a 4 iscritti Ma cercherò, come io ho già detto nell'episodio O meglio, non episodio, video Su come ho conosciuto Inazoom11 Cercherò sempre di essere disponibile anche sul secondo canale Perciò raga, il video finisce qui Era soltanto un video per chiarire le cose su come andrà il canale in futuro E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao